E' terminato l'incontro 7 a 1 a favore della Virtus Castelfrentano contro il Migliani Cogaccio. 7 a 1, 0 a 0 il primo tempo e secondo tempo la reazione dei nostri ragazzi nell'ultima di campionato. Congratulazioni. Ecco i nostri ragazzi, si salutano. Vanno a ricevere prima gli applausi dalle ragazze pom-pom sedute nella tribuna. Adesso ecco i nostri ragazzi che vanno a raccogliere gli applausi dalla tribuna, l'ultima di campionato. I nostri ragazzi si sono classificati terzi in classifica a un punto di distacco dalla seconda. Proprio sfortuna nera. Bravo, bravo il nostro pitbull.